Salve amici del Centro Meteo Italiano. Vediamo di tracciare una tendenza aggiornata per l'inizio di marzo e quindi della primavera meteorologica. Il prossimo weekend vedrà un vasto campo di alta pressione estendersi su gran parte dell'Europa occidentale. Attenzione però ad una piccola goccia fredda che potrebbe transitare nei pressi dell'Italia, con effetti che al momento riguarderebbero solo una flessione delle temperature. Inizio di marzo che dovrebbe vedere ancora un anticiclone ingombrante ma anche un rapido fronte freddo in transito sui Balcani e che dovrebbe estiorare l'Italia. Atteso dunque un calo delle temperature all'inizio della prossima settimana con valori che si riporteranno vicini alle medie del periodo. Possibili impulsi perturbati a seguire probabilmente di natura polare ma la tendenza è ancora molto incerta. Seguite però tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.